Abbiamo una nuova settimana, abbiamo una nuova parasha, siamo appena nel mezzo della storia di Egitto, siamo casi per uscire, nella parasha scorza abbiamo avuto sette piaghe e in questa parasha abbiamo le tre ultime piaghe, anche se vedete bene la noma di parasha che si chiama Bo, la numero convalorico di questo nome di Bo, la Bet che è due e la Alef che è uno fa tre, per dirti che in questa parasha abbiamo ancora tre piaghe. E qui succede una cosa interessante. E mai si raccontano che quando HaKadosh Baruch Hu ha detto a Moshe, vai a dire al Faraone che questa adesso è l'ultima piaga, sarà la piaga del primo genito e ogni primo genito morirà. E al popolo ebraico deve dire una cosa interessante. Se loro vogliono essere salvato della piaga della primo genito, devono fare un sacrificio, prendere un anello, un capretto, che in parentesi le capretti erano l'idolatria degli egiziani. Gli egiziani erano un po' come gli indiani oggi in India, no? Quando vede una mucca in la strada passare, loro si fermano, perché la mucca è santa. Esattamente gli egiziani stessa cosa. Prendete il capretto, l'idolo dell'egiziano, tu hai un obbligo a shaktarla, prendere il suo sangue e meschiarlo con la sangue della milà. Noi sappiamo che noi ebrei abbiamo un'ambizione di fare la circoncisione, la milà. Però il popolo ebraico in Egitto per anni non ha fatto la milà. Era una iridata dorot. Dice Moshe, prendete il sangue della milà, prendete il sangue dell'anello, meschiate il sangue del sacrificio di Pesach insieme con il sangue della milà, mettete questi sono stipidi della porta, e così io, quando andrò in Akkadosh Baruch Hu, non era l'angelo di morto. Quindi Akkadosh Baruch Hu stesso fa la piaga. Quando io andrò a Egitto a uccidere tutti i primogeniti, quando vedrò il sangue sulla stipidi, io alzerò e salterò la tua casa e là non ci saranno morti. Ebbene, questa cosa è un po' strana. Perché la prima cosa che la cosa è strana è che il creatore ha bisogno di sangue sulle stipidi per sapere se viva un ebreo o un non ebreo in questa casa. Che senso ha mettere sangue sulle stipidi? E non solo questo. Il Midrash racconta che c'erano egiziani che erano furbi o pensavano di essere furbi, si nascondevano dentro la casa dell'ebreo dicendoci che nella casa dell'ebreo non ci saranno morti. E il Midrash racconta che non ha aiutato. Gli egiziani che erano addentro la casa di un ebreo, loro, se erano primogeniti, muiravano. Quindi, che serve il sangue sul stipido? Uno, il creatore sa che è la casa dell'ebreo. E due, anche se c'è sangue e c'è addentro un egiziano, non aiuta. E questo dobbiamo capire. E ma si dicono? Che, in realtà, questi due mitzvot sono due mitzvot molto importanti. Anche, erano i volte quando facciamo la milà, che è un versetto che noi diciamo va'ommer l'acca ben damai chai, va'ommer l'acca ben damai chai, vuol dire, la tua vita, grazie al sangue, la tua vita, grazie al sangue, la ausenza è che il moe, mette il dito adentro, il vino, e mette adentro la bocca del manvino. E che sono questi due sangue che hanno portato la vita? Il sangue del sacrificio di Pesach e il sangue della milà che era mischiato. Le maestri raccontano che una delle ragioni che fu fatto così è perché il popolo ebraico era molto deboli. Le maestri, il popolo ebraico è sceso fino al quarantannobesimo livello di impurità. E le maestri dicono, dovete sapere, che della cinquantesima porta di impurità non c'è modo di uscire. I behemet, se noi vediamo bene, il popolo ebraico aveva bisogno di essere in Egitto molto più di 210 anni. Avraham avvino, il nostro primo avi, fu promesso, e i tuoi figli, le tue figli saranno schiavi in una terra che non sarà loro per 400 anni. E dopo 400 anni loro usciranno di questa terra. I behemet non erano 400, erano 210. e il Kadosh Baruch Hu aveva bisogno di mettere fretta, ha fatto le cose molto, molto, molto più veloce perché non c'era tempo a aspettare. Un attimo ancora e il popolo Hasve Shalom aveva sceso al cinquantesimo porto di impurità e la storia Hasve Shalom era terminata. Però, anche là dobbiamo chiedere perché c'è bisogno di questi due sangri? Quindi c'è che dice molto semplice, fate vedere che non state idolatri come gli egiziani, prendete il suo idolo e ucciderete il suo idolo. O se noi chiediamo bene, scusa, Tu Hashem ha promesso? a Avraham avvino che tu fai uscire dai suoi accendenti. Non c'è bisogno di nessuna cosa. Se io prometto a qualcuno, vedi, il tuo figlio sarà schiavo però Bezrat Hashem un giorno lo farò uscire. E io sono a Kadosh Baruch Hu Hasvejom, non sono a Kadosh Baruch Hu però il creatore del mondo fa una promessa di questo genere. C'è bisogno di sangue, del capreto e della milà e tutto quanto. E qui, dite la maestra una cosa interessante. Qual è la promessa che fu fatta a Avraham? Le parole che vengano usate le tue figli usciranno. Quando uno è considerato un figlio del suo padre, due risposte. C'è un figlio che è un figlio biologico. Si ha DNA del suo padre, della sua madre, lui fu creato. Con i mesi dicono che il figlio vero non è il figlio biologico. è il figlio vero, è il figlio spirituale. Un figlio vero, un figlio che segue le tue insegnanze, che segue le tue tradizioni. Dicono le maestri, quando uno insegna a qualcuno Torah, quando qualcuno insegna a qualcuno spiritualità, quando qualcuno insegna a qualcuno mitzvot, quando c'è un rabbino che ha un allunno, dicono le maestri, questo allunno non è solo il suo allunno, questo allunno è il suo figlio. Perché questo allunno riceve, grazie a questo rabbino, la insegnanza, come comportarci, come andare avanti. E questo vale molto di più a volte di essere padre biologico. Ok? Il compito del padre, c'è un versetto in arabo che si dice anche la gata può fare un figlio. Anche il gato può fare un figlio. Non è saggezza portare un figlio al mondo. Biologicamente uno prende una moglie a rapporti e fa un figlio. La saggezza è fare crescere questi figli. Per un figlio, quando è considerato un figlio vero, quando lui prende le insegnanze delle sue genitori e va avanti con queste insegnanze, dicono le maestri, la promessa che fu fatta Avraham a Vinu è che le figlie di Avraham a Vinu usciranno d'Egitto. Però il problema è che questo popolo che sta adesso in Egitto non è considerato il figlio di Avraham. Avraham aveva la Milà, è il primo ebreo che ha fatto la Milà. Avraham era contro l'idolatria, è il primo che ha proclamato a tutto il mondo c'è un Dio, lasciate tutti questi idoli, tutto sciocchezzo, tutto non è vero, tutto è una bugia. ma dicono le maestri, come un popolo che fa idolatria, che non è circunzato, che non ha fatto la Milà, può essere considerato figlio di Avraham a Vinu. E per questo la promessa che fu fatta Avraham a Vinu un giorno il tuo popolo uscirà d'Egitto non è applicabile. E per questo si vediamo bene. Quali sono le due mitzvot che vengono date? esattamente le punti forti di Avraham. Uno la Milà e due il sacrificio. Il sacrificio dicono le maestri, rappresenta il collegamento che uno ha con il creatore. La parola korban, korban che vuol dire sacrificio in ebraico, ha le stesse radici come la parola le karev, lì karev, avvicinare. Antiguamente l'avvicinamento si faceva tramite il sacrificio. Oggi dicono le maestri e l'avvicinamento è la preghiera. E chi è il primo che ha stabilito una preghiera in la storia di Avraham. La preghiera di Shachrit che noi preghiamo ogni mattina fu stabilito di Avraham. E per questo disse a Kadosh Baruch Moshe se quelli vogliono essere figli di Avraham, vogliono avere il merito di uscire d'Egitti, vogliono essere ebraici, non è un nome, non è un dono, è un atto, è una filosofia, è una Torah, è un modo di comportamento che tu devi avere. Almeno queste due cose. La Milà circuncisione e anche la Milà rappresenta, no? La Milà rappresenta il Brit che non si può sposare con qualsiasi uomo, non si può fare figli con qualsiasi donna. Questo è lo che rappresenta la Milà, la parola chiedusha, santificazione. E dell'altro rado il sacrificio, il corban, sapere parlare con Hashem, essere vicino alle karev, delle radice delle karev, essere vicino alla kadosh baruchu. E da emet che questa mitzvah del sacrificio di Pesach lo abbiamo fino ad oggi. Fino ad oggi abbiamo questa mitzvah. Una mitzvah molto particolare. Le maestri dicono che il sacrificio di Pesach quando si faceva all'epoca di Betta Migdash c'era un obbligo mangiare il sacrificio di Pesach in una casa. Non potevi mangiarlo in due case. Non potevi dire un pezzo mangerò in questa casa e l'altro pezzo mangerò l'altro. No? Solo in una casa. Addirittura dicono le maestri in una stanza. Non si può mangiare il sacrificio di Pesach in due stanze diverse. Non solo questo. Dicono le maestri se tu stai mangiando il sacrificio di Pesach e mentre che mangi il sacrificio di Pesach ti indormi sei stanco e tu dormi e tu ti svegli già non puoi mangiare. Basta. Il fatto che hai dormito adesso non puoi avanti e mangiare il sacrificio. Trane dice l'Allah se c'erano altre gente presente con te che non hanno ancora dormito che sono rimasto sveglia grazie a quelli che sono rimasti sveglia anche che zii tu hai indormito puoi continuare a mangiare. E questo tzadikim è un halakha stranissimo. In parentesi il Rambam dice che è la stessa cosa fino ad oggi. Noi oggi non facciamo il sacrificio di Pesach però che facciamo per ricordare il sacrificio di Pesach? mangiamo è l'ultimo pezzo che si mangia prima il Bercat Amazon dicano le maestre c'è che dice che anche oggi se tu inizi a mangiare il pezzo della Ficoman in mezzo che tu mangia ti indormi e dopo ti svegli non puoi continuare a mangiare sino che ci sono altre gente presente sul tavolo. In questo caso puoi continuare a mangiare e la domanda è perché qual è la storia? Perché se devi mangiare in una stanza in una casa e non dormire le maestre dicono che l'uscita d'Egitto è una cosa che c'è in ogni generazione Adesso uscire d'Egitto possiamo capire literalmente che è uscito d'Egitto perché sì perché se non aveva uscito d'Egitto lui ancora era schiavo fino adesso in Egitto mi potete chiedere però scusa come mai era schiavo in Egitto non può essere che diciamo una bugia che diciamo non aveva uscito il nostro avide Egitto noi e le nostre figli fino a fino ad oggi eravamo schiavi in Egitto forse è una bugia non esiste la schiavitù la schiavitù fu cancellata non esiste nell'era moderno almeno ufficialmente diciamo non esiste uno schiavo che vuole dire che se non faceva uscire le mie avide Egitto fino ad oggi avevamo schiavi dicono le maestre un schiavo c'è un schiavo che literalmente è un schiavo lavora dura e fatica un schiavo non è solo questo un schiavo è uno che è sommesso a un modo di vivere a un modo di comportare a un modo di pensare a un modo di filosofia dicono le maestre si tu bis 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 no non è uscito d'Egitto tu oggi erai egiziano schiavo alla mentalità egiziana assimilizzazione puro e questo dicono le maestre che in ogni generazione dobbiamo essere così finisce siamo usciti d'Egitto perché grazie a questa uscita d'Egitto noi siamo ebrei non siamo come tutti le popoli e non siamo come gli egiziani siamo diversi totalmente però c'è una cosa importante non si può dormire se uno vuole andare avanti con questa cadena del popolo ebraico non si può dormire sa di chi io non so chi era il mio bis bis non lo so non lo so come lo si chiama è sicuro che non lo so come è la sua faccia e non so è un metro ottanta un metro sessanta non lo so però una cosa sono sicuro lui all'Ela Seder mangiava mazzotti come che noi lo mangiamo la stessa mazzà non quella della macchina non esisteva ancora però quella mazzà tonda fatta a mano è la stessa mazzà e beva vino e ogni shabbat sono sicuro stava sul tavolo suo e faceva kiddush e non solo questo dopo mangiava pane era pane era pita era pizza non lo so però faceva mozzini sicuro sicuro dicono maestri la cosa che è eterna nel nostro popolo sono queste tradizioni e questa è la sola cosa che tu puoi immagina immagina tu nonno stai là di shabbat chiude il negozio fa kiddush di shabbat è la stessa cosa è il tubismo con la quale la paura la paura è che uno si può indormire a volte nella vita uno ha sogno e dorme e dice queste cose non sono importanti noi la vita è avanzata la vita è cambiata dicono le maestri se uno mangia la ficomane e mentre che lui mangia si dorme e dopo si sveglia non può continuare a mangiare mai sia quando uno lascia la strada anche dopo si vuole ritornare quasi impossibile però questa è una cosa instressante se ci sono altri su tavoli che stanno mangiando e loro sono sveglio grazie a loro posso anche io continuare a mangiare che vuole dire Baruch Hashem il nostro popolo non è un popolo orfano anche se ci sono quelli che si dormano sempre ci sono quelli che sono svegli sempre ci sono quelli sul tavolo che mangiano e fanno il kiddush e fanno le mazzotte e fanno il vino e fanno il shabbat sempre c'erano e sempre ci saranno e grazie a loro anche se tu hai dormito anche se tu sei allontanato anche se oggi forse non la fai forse non fai shabbat 100% forse non mangia su 100% però grazie a loro hai la capacità di svegliarci e subito collegare a loro e andare avanti e questa è la forza del popolo ebraico la sua unione perché se il popolo ebraico non era unito erano solo singoli con singoli quindi nel momento che uno si dormeva la storia era terminata però voglio un po' approfondire ancora di più la parasha abbiamo la storia anche dell'ammazzà se uno pensa su Pesach abbiamo l'Ela Seder del sacrificio di Pesach ma possiamo dire che la cosa che simbola il festa di Pesach è l'ammazzà è la Torah in parentesi la festa di Pesach non viene chiamato Pesach noi la chiamiamo Pesach viene chiamato Chag HaMazzot la festa delle Mazzot o delle azime come si dice in italiano la festa delle Mazzot anche quando preghiamo in la Tefilah diciamo Yaale ve Yavu diciamo berjom Chag HaMazzot è nel giorno della festa della Mazzot non diciamo la parola è la festa di Pesach tutto Pesach sono le Mazzot dicono le maestri sette giorni non mangerai il Chamez qual è il Chamez dicono le maestri un pane che era più di 18 minuti fino che era cotto nel momento che hanno messo l'acqua insieme con la farina fino a che è entrato nel forno si sono passati più di 18 minuti dicono le maestri questo pane ha levetato questo pane non si può mangiare il Chamez adesso perché non si può mangiare un pane che era più di 18 minuti dicono le maestri perché quando il popolo è uscito d'Egitto è uscito con fretta berhipazon dicono le maestri veloce veloce siamo usciti velocissimamente non c'era anche tempo per dare al pane così che si gonfia così diviene bene grosso bello no veloce con fretta dicono le maestri voi dovete sempre per eterno ricordare questa cosa che state uscite d'Egitto con fretta e per questo fino ad oggi abbiamo l'obbligo di mangiare le mazzotti quanto lavoro si fa si pulisce la casa solo per non avere un picco pezzo di pane e perché per ricordare che era con fretta è così importante la storia della fretta basta che posso ricordare che sono uscita d'Egitto beviamo vino possiamo fare tante cose per ricordare l'uscita d'Egitto per cui sembra che le maestri non mettono l'esclamazione non solo sul fatto di ricordare l'uscita d'Egitto qui c'è un'esclamazione sulla storia della fretta come dicono le maestri il popolo non poteva aduggarsi anche per un attimo non poteva per un attimo fermare andare veloce perché è così importante perché è così importante ricordare questa velocità e quella è una domanda che si deve chiedere perché tutta la storia di Pesach è l'amazzà che l'amazzà fa parte dell'identità del popolo ebraico e beh met anche questo possiamo collegarlo a Avraham a Vino le maestri dicano che il primo che ci è insegnato che le cose si fanno con fretta è Avraham a Vino dove quando Avraham a Vino ha fatto la circunzione della Milà e lui era cento anni immaginate un uomo di cento anni si che ha male si sente male e lui va a cercare le ospite quando lui va a cercare le ospite lui corre per trovare le ospite quando le vede da lontano la storia famosa non voglio rincontare tutta la storia di Avraham la conosciamo lui corre corre prendere le ospite e quando lui ritorna a casa non solo questo dice la Somalia ma harii veloce dice la Somalia veloce fai il cibo veloce il Somalia aveva 90 anni si vi immaginate un uomo di cento anni dire la Somalia di 90 anni fai il cibo veloce non solo non solo questo anche anche suo figlio che era suo figlio Ishmael dice Israël prende la bestia shaktala e veloce veloce voglio cucinare voglio cucinare la carne anche suo figlio ragazzi aveva 13 anni però era dopo la milà direi mai se dovete immaginare la milà circuncisione senza anestesia senza niente per un ragazzo di 13 anni non è che lui adesso anche si è giovani ha così tanta forza veloce così importante veloce qual è la storia della veloce non solo questa tutta la storia di Ebraham avinu è veloce quando gli angeli dicano che un giorno avrà un figlio e questo figlio nasce si chiama Yitzchak e quando Yitzchak arriva a 37 anni che dice la caduce bochua Yitzchak avrà avinu per favore prende il tuo figlio e fai un sacrificio io voglio che tu sacrifica il tuo figlio Hashem non ha detto quando ha detto solo domani ha detto un giorno ha detto in questo giorno la sacrificherai la mattina la sera non fu detto e che fa Avraham avinu la prima cosa che si fa la mattina si sveglia presto perché si sveglia presto per andare a sacrificare il tuo figlio e tutti le maestri chiedono però scusa perché ti svegli così presto noi sappiamo quanto la vita è importante dice la mishnabe avuta addirittura una ora dicono le maestri una ora di studio di Torah una ora di fare buona azione una ora di pregare una ora di fare mitzvot vale più dicono le maestri di tutto il prossimo mondo il prossimo mondo eterno il paradiso eterno dicono avrà piano piano perché andare la mattina a uccidere il tuo figlio dà loro ancora qualche ora di studiare qualche ora di fare azioni beni per il buono come mai un'ora in questa vita vale più di tutto l'eterno di il maestri c'è una grande differenza tra l'uomo e tra l'angelo e l'angelo vengano chiamato ha ondim sapete che vuol dire ha ondim ha ondim vuol dire quelli che sono fermi quelli che sono a piede uno che ha piede è fermo gli angeli vengano chiamati ha ondim per questo quando noi facciamo la midà la preghiera nel tempio noi mettiamo le gambe diritto uno contro l'altro a piedi firma senza muoverci sì perché per essere come gli angeli gli angeli le loro gambe diciamo che sia un gamba che è collegato così una gambe sì e diritto e sono a piedi sono messi come gli angeli invece l'uomo non viene chiamato così e l'uomo viene chiamato ha ondim quelli che camminano qual è la differenza tra quelli che camminano gli angeli che sono a piedi a fermi è messi molto semplici e l'angelo non può cambiare lui sta in un livello fu creato in questo livello morirà in questo livello sarà sempre nel stesso livello il maestro e l'angelo è statico sta a piedi diritto non muove invece noi noi siamo quelli che camminano noi abbiamo la capacità di essere meglio fare meglio che al contrario mai sia possiamo andare dietro e per questo c'è di chi dovete sapere noi siamo molto molto più importanti degli angeli siamo molto molto più importanti degli angeli siamo molto molto più saggi degli angeli e in che senso nel senso che noi camminiamo c'è di chi c'è una storia un giorno c'era in Gerusalemme 20-30 anni fa un grande rabbino si chiama Rapshalom Shvadron Rapshalom Shvadron che rabbino era un rabbino di Musar etica ebraica il Musar si diceva tu non c'era modo di sentire una drasha di Rapshalom Shvadron senza che le parole ti entrino con lacrime dentro del cuore quanto aveva forza quanto emunà aveva questo dice tanto sull'uomo stesso dovete sapere Zadikim le parole che escano non dependono della saggezza si vengono sentite dipendono dell'uomo che lo dice possono essere due gente che dicono totalmente le stesse parole uno sarà sentito e l'altro no qual è la differenza quando tu parla la parola viene dell'anima c'è scritto che quando Hashem ha creato Adama Rishoni soffiò dentro il narizzo dell'uomo soffiò che soffiò dentro il narizzo dell'uomo la sua anima dice Oncolus che vuol dire l'anima l'anima è quello che dà la capacità di parlare la sola creazione che può parlare siamo noi si il papagallo può imitare non può parlare dicono le maestri dove viene la forza di parlare l'anima e l'anima soffio quando tu parla che esce dicono le maestri quando tu parla esce il vento quando uno parla è la sua anima che sta dentro che esce fuori e per questo due gente possono dire la stessa cosa uno sarà sentito l'altro o no perché non depende delle parole stesse depende che tipo di aire esce fuori quindi quando lui parlava le sue parole di uomo così santo così kadosh così tzaddì che lavorava su si stesso maestri è l'uomo completo l'uomo completo è quello che riesce a governare su si stesso al cento per cento non è il suo cuore che decide per lui è lui stesso che governa che fa e si racconta che un giorno lui ha preso di lui dare una lezione a un gruppo di supporters di fan ci sta calcio non so come si dice in italiano ci sta calcio c'è un gruppo per esempio Mila solo per darvi un esempio quindi ci sono tutti quelli che sono che piacciono Mila quindi di Roushalaim c'è un equipo molto famoso si chiama Betari Roushalaim Betari Roushalaim che questo è un equipo di calcio che l'inizio di questo equipo di questo gruppo Betà non era un movimento di calcio era un movimento di gioventù e è saputo che le supporters le fan di Betari Roushalaim loro sono molto molto intenso quindi lui ha iniziato a fare un gruppo di un lezione a un gruppo di questi gente e questo era di Shabbat e un giorno uno delle sue alunni si sono gente però viene il rabbino dice rabbino ti posso chiedere una domanda dice sì per favore chiede quella è il problema la prossima settimana di Shabbat su che sarà la lezione e il rabbino lo guarda dice vedi la verità non ho ancora deciso sto pensando forse su questo forse di questo non sono ancora sicuro che parlerò fino alla prossima settimana però perché mi chiedi dice il rabbino dice no rabbino lascia stare non importa scusa tu mi chiedi che parlo voglio sapere perché ti dico tu devi capire il prossimo sabato si gioca Betari Roushalaim gioca contro Maccabi non lo so si gioca di Shabbat io devo per forza andare tu devi sapere ma se io non vado a vedere questo gioco di calcio forse vanno a perdere perché io non ci sono perché quando io ci sono là e io grita e io urla io dò la loro energia per giocare però dice rabbino tranquillo tranquillo che si fa in questo calcio calcio mi puoi spiegare sincero di chi non sapeva che vuol dire calcio sincero ci sono gente non sa così era dedicato al studio d'autor ci vedi ci sono un gruppo di 11 gente che vengono e c'è il palo si nel calcio e la deve mettere dentro del gol e ogni volta che tu la metti nel gol tu hai un punto e più punti che ce l'hai più che tu guadagni ah che bello dice ci sono due equipi due volte 11 persone 22 insieme il rabbino chiede a questo all'uno però io non ho capito perché c'è bisogno che due vengano insieme giocare uno contro l'altro chi viene il primo gruppo per un'ora ti fa con il palo quanto volte gol che vogliono uno due tre cento due cento e dopo l'altro ora viene l'altro equipo e vediamo chi ha fatto più gol e lui inizia a ridere il rabbino non hai capito tutta la gioca tutta la passione del calcio è che ci sta un keeper ci sta qualcuno là che sta tu non puoi fare il gol quanto vuoi e non solo questo ci sono giocatori c'è il defense c'è l'attack non è che tu puoi prendere adesso nel calcio fare un calcio e così subito no tu devi suddirare devi lavorare devi passare lui e lui e lui la devi tirare bene che va a entrare così non la fermano che può entrare e essere gol avete capito? la saggezza è quando c'è una forza contra di te quando c'è una forza contra di te che lavora contra di te che tu non vuoi che farai un gol che non vuoi che farai la cosa giusta e tu fai la cosa giusta adesso sei un vincitore ho detto all'alunno ogni sabato tu vieni alla mia lezione e non c'è nessuna cosa che contro perché non c'è nessun'altra cosa interessante che tu hai a fare adesso è il solo sabato dove c'è una contra che c'è un ezzarate dice lascia vai vedere calcio adesso adesso se tu vieni alla mia lezione questo sarà considerato saggezza dicono le maestri questa è la cosa che le angeli non hanno le angeli non hanno questa forza che va contro di loro l'angeli stiamo per la piede fermo stesso livello tutta la vita invece noi noi siamo quelli che camminano noi siamo quelli che dicono le maestri sapete perché perché lui sa che in questa vita ogni volta che un uomo vuole fare qualcosa buono c'è una forza che viene contro di lui c'è una forza che dice lascia stare perché deve fare questa cosa la diversa e avraham avinu ha paura ha paura ha paura che chass v'Shalom questa cosa il fino non lo affare questo lui si sveglia la mattina c'è di c'è una mitzvah interessante che quando uno va al tempio deve coro per andare al tempio che da rabbi Yehuda c'è 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 perché uno deve correre al tempio se io per esempio so che la preghiera è alle otto io esco da casa alle sette e io vado tranquilla faccio una passeggiata tranquilla perché so tempo io so alle otto meno quarto arrivo al tempio ossia quando inizieranno alle otto sicuro sarò là in questo caso devo anche correre o basta che arriva il tempio quando le maestri dicono che tu devi correre al tempio non solo al tempio qualsiasi cosa buona che tu vuoi fare correre per aiutare un malato correre per andare a vedere qualcuno che ha bisogno di soldi basta arrivare al tempo che fu destinato tra di noi e nel nostro compromesso che io devo arrivare o è importante anche venire correre sentite questo l'importanza non è solo arrivare alle otto quanto è il tempo di pregare l'importanza è che quando tu esci da casa tu corri per andare al tempio sai perché? perché chi ti prometto che tu arriverai alle otto? forse qualcuno ti chiamerà la moglie ti chiamerà viene aiutare o il zio ti chiamerà o qualcuno ti chiamerà non lo so o nel mezzo ci sa qualcosa con la macchina e la macchina non andrà bene dicano le maestri quando uno vuole fare una cosa buona deve sempre andare con fretta se deve sempre andare veloce non solo perché ha paura di non arrivare al tempo perché ha paura della forza che può venire che si chiama i zio contro di lui e per questo anche se usciamo della sette della mattina per arrivare al tempio alle otto e una passeggiata solo di una mezza ora e se Google la deve fare a tempo fa la veloce perché tu non sai che può venire nel tempo dice la risa e l'uomo fu creato di quattro elementi abbiamo già parlato tanti di questo il fuoco il vento e l'acqua e la terra e ogni di questi elementi ha portato con lui una battaglia e il fuoco che abbiamo dentro di noi sì noi 36 gradi no siamo caldi c'è un fuoco dentro sì e il serpente non è caldo perché non c'è fuoco dentro siamo caldi dicono i maestri e l'arrabbiatura l'arrabbia l'essere rigoroso l'orgoglio la superbia tutto questo viene del fuoco dell'acqua invece vengono tutti i desideri senza di approfondire perché l'acqua e i desideri c'è tanti di parlare e il vento porta con sé sì parolaccia bugia e la terra dicono le maestri l'elemento della terra è l'elemento che ci porta alla pesantezza l'elemento che ci porta alla pigrizia e adesso uno può chiedere di questi quattro elementi qual è l'elemento che è più forte di tutto il maestro e la terra dove lo sappiamo perché noi come siamo chiamati Adam che vuol dire Adam in ebraico Adam in ebraico viene dalla parola Adama della terra perché la terra abbiamo detto che c'è anche fuoco forse ci chiamiamo Es chiamiamo da oggi lui dice Adam lo chiamiamo Es o vento o ruach vento o acqua lo chiamano acqua no Adam perché Adam perché è delle quattro elementi l'elemento più diciamo dominante è questa terra e dicono le maestri la terra porta a questa pesantezza la terra porta a questa pregrizia le maestri anche dicono che porta anche la tristezza è collegato la pregrizia e la pesantezza è collegato con la tristezza più che uno sta a casa o più che uno è pigro meno che un uomo muove più che è triste perché ha più tempo di pensare su cose e più che uno pensa su cose a volte a volte non è giusto pensare troppo più che ti porta a tristezza quindi uno deve essere sempre occupato dicono le maestri voi siete usciti da Egitto mangerete la mazzà ricordate che per uscire d'Egitto che vuol dire Egitto Egitto vuol dire sofferenza Egitto voglio dire da oscurità a luce Egitto voglio dire dell'esilio alla salvezza ognuno di noi ha il suo Egitto ognuno di noi ha le sue punte nere ognuno ha le sue punti che voglio cambiare sapete come si esce di queste cose solo con la fretta subito dicono le maestri noi dobbiamo essere sempre correre vai al tempio vai a una lezione vai a tua madre aiutare vai a tua fratella aiutare fai qui fai là veloce la cosa più preziosa che abbiamo è la vita e il tempo dire maestri non essere preoccupato per i soldi o che soldi che è andato via besrata shema gente aiuterà la guadagnerà da nuovo non c'è problema con soldi besrata shema gente aiuterà però c'è una cosa che non c'è modo a restituirlo e questo è il tempo e di che dipende quando tu sarai prolifico una delle cose dipende della tua velocità sei negozio io vai veloce al tempio io ritorno io vai a una lezione io ritorno invece no se sono pigro puoi essere là e dici va bene non posso adesso lasciare da solo fino che arrivo fino di qui solo il tempo che ti usa per pensare forze 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 già poi devi fare la mitzvah e poi se nemmai si nemmai si dicano le mitzvah succedono con velocità tengo tzadikim voglio approfondire ancora un po' di più in questa parasha c'è una chiave incredibile la parasha racconta verso il film della parasha su una mitzvah molto preziosa si chiama la mitzvah della tefillin ogni ebreo maschio ha un obbligo a mettere tefillin uno sul braccio leggiamo il tefillin sul braccio legherete ukshartem le ot aliadecha e l'altro metterete vahayule ot trafodene in echa qui sulla testa si mette il tefillin mi metto uno pochino qual è il collegamento tra la uscita di Egitto con il tefillin il collegamento è semplice tanti mitzvot che noi facciamo è ricordare Egitto tefillin mezuzah shabbat zekher le ziyat mitzraim non mai si dicono che nel tefillin c'è una cosa molto interessante perché si mette il tefillin sul braccio e perché si mette sulla testa dicono le maestre il tefillin si mette sul braccio contro il cuore e sulla testa contro il cervello e quando si mette il tefillin uno deve pensare di volere sottomessere il suo cuore il suo pensiero alla volontà del creatore tzaddikim non è kabbalah non è midrashim questo pshat halachah ogni volta quando uno mette il tefillin sul braccio deve pensare lo metto sul braccio contro il cuore perché devo legare il mio cuore attraverso Hashem e lo metto sulla testa perché devo legare le mie pensiero attraverso Hashem sottomettere le mie pensieri il mio cuore attraverso Hashem e qui sa di chi la domanda più forte come posso sottomettere le mie pensieri o il mio cuore e il cuore che fa il cuore il cuore manda desideri il cuore manda preoccupazioni e il cuore manda paure e il cuore manda tante cose posso controllare il mio cuore o mettere il tefillin sulla mia testa posso controllare le mie pensieri che richiesta è? devo mettere il tefillin sul cuore per controllare il mio cuore attraverso Hashem che il mio cuore sarà tutto il giorno pensando solo di Hashem che vuol dire? io posso decidere di non fumare una sigaretta questa è una decisione che posso fare posso decidere di non volere fumare no uno che fumo dieci anni può decidere di non volere fumare la voglia ci sta che voglio dire? Hashem mi può dire tu sai io ti comando solo fare cose buone sul mondo di azione tu hai una decisione di fare perché se che vuol dire io ti comando a non pensare cose cattive mettere sulla tua testa il tefillin per non pensare cose cattive che dire io ti comando a mettere sul tuo cuore non desiderare non preoccupare di cose che tu non devi sai di chi? se io ti dicevo mettere il tefillin sul braccio per il mano se mettere il tefillin sul mano e mettere il tefillin sul piede è più logico perché il piede il mano non è autonomia io decido al mano dove andare al piede dove andare o se ci sono due organi nel corpo che sono autonomo al cento por cento è il cuore tu non devi dire al cuore lavora non lavora il cuore lavora da solo c'è questa cosa a pensare uno può decidere non pensare non esiste dire a uno non pensare perché il pensiero è un lavoro autonomo quindi che voglio dire io devo legare il mio cuore e mettere su sulla mia testa come mai? posso comandare posso essere capo sulle mie pensieri? e la risposta ovvia è che deve essere sì che la Torah non ti chiede non fare una cosa così la prima differenza se vediamo bene è la parola che viene usato quando si parla del cuore si dice il cuore si deve legare quando si deve legare una cosa tu lega una cosa quando tu non vuoi che escapi n'acqua? invece si metti sul testa non c'è scritto legare c'è scritto le metterete sulla tua testa il cuore si come lavora il corpo del cuore il cuore vuole qualcosa desidera questo desiderio del cuore viene mandato alla testa la testa inizia a pensare ok? o il cuore è preoccupato di qualcosa questa preoccupazione viene mandata alla testa e il testa inizia a preoccupare il cuore ha paura di qualcosa questa paura viene mandata alla testa e il testa inizia a bere con paura ma se l'inizio di tutto sta nel cuore e quello deve essere legato come si lega come si fa? la camera racconta una storia un giorno c'era un grande rabbino si chiama Abaye grandissimo rabbino l'epoca di Tanaim Abaye e di Rav e mai si dicono che il rabbino più piccolo poteva riuscire riuscire le morti uno che è morto lo fa vivere far capire di che livello siamo parlando le Tanaim le Muraim Abaye tutto il calmude pieno di Abaye un giorno Abaye va nella strada non era la strada principale era una strada una delle vie piccole e vede un uomo camminare insieme con una donna però lui conosce anche l'uomo e anche la donna e sa che questa donna non è il marito di questo uomo questa donna è sposata con qualcuno e questo uomo è sposato con un altro e lui vede tutti i due camminare insieme e lui dice che vanno a fare questi due insieme forse vanno a fare un peccato io vado a seguire loro così si faranno un peccato prima di farlo posso andare a parlare con loro convincerlo a non fare io sono un rabbino è la mia responsabilità e lui inizia a camminare 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 ebbene la strada per arrivarci questa strada era un posto un po' non è la strada principale però è una strada un po' che c'è paura camminare in questa strada del sole e arriva un punto dove la donna dice all'uomo grazie mille tu sai io avevo paura camminare in questa strada grazie che sei venuto con me per accompagnarmi così senza paura posso camminare in questa strada e questa donna è andata via e questo uomo è andato alla sua via e il rabbino prende la sua testa e dice oi come ho fatto io pensare male su due persone che avevano attenzione bene io ho pensato subito forse voleva fare un peccato però no quello voleva solo aiutare questa donna che aveva paura a camminare da solo è ritornato a sua casa si è firmato così dicono le maestri all'entrato della porta al lato del buco come si apre dove si mette la chiave al lato dove si mette la chiave si è firmato e inizia a fare il chesbonefesh che vuol dire il chesbonefesh il chesbonefesh vuol dire che riflessione riflettere come mai il mio testo pensa così male come mai ho fatto pensare e giudicare questa gente per il male questa è la storia abbiamo detto una storia che fa pensare tanto quanto volte un uomo succede queste cose che pensa su qualcuno qualcosa e tanti volte non abbiamo la fortuna che il rabbino aveva di vedere che le nostre pensiere erano bugie qui il baruch hashem il rabbino ha capito che ha seguito immaginate che non aveva seguito loro andava con questo pensiero chissà fino a quando pensandoci che chissà che hanno fatto questi due baruch hashem che è andato con loro però quanto volte può succedere a noi la cosa più strana è che questo rabbino invece di ritornare a casa per riflettere sulla sua azione si ferma alla porta la domanda è perché si ferma alla porta perché pensando su tutto che succede si ferma alla porta e perché si ferma all'ado dove si mette il chiave per aprire la porta e questo c'è di chi sentite questo il cuore sempre manda cosa alla testa desideri preoccupazioni pensieri tanti dubbi sì questo è il lavoro del cuore il cuore lo fa tu non hai controllo su questi questi pensieri vengono mandati al testa però tu hai controllo se pensare su questi pensieri dicono le maestri il primo pensiero non la può controllare però il secondo pensiero dipende da te molto profondo un'altra volta il primo pensiero non lo può controllare il secondo pensiero dipende da te che vuole dire questo rabbino che camminava l'entrato il primo pensiero qual era questi due vengono a fare un peccato adesso aveva una decisione poteva continuare con questo pensiero o poteva subito togliere questo pensiero e metterci un altro adesso come si toglie un pensiero molto semplice abbiamo detto che se c'è una cosa che la testa non può fare è non pensare quindi togliere un pensiero non vuol dire chiudere la testa perché non esiste togliere un pensiero voglio dire che tu decidi con che pensiero cambiare questo primo pensiero che ti è venuto perché il primo tu non lo controlli perché il secondo dipende da te invece di pensare subito il momento che il cuore manda questo pensiero questo desiderio questo dubbio questa preoccupazione subito prende la tua testa e pensa su un'altra cosa e così dicono maestri questa è la chiave del cuore un'altra storia solo per fare capire perché è un concetto molto profondo e molto importante può salvare la vita questo concetto un giorno uno è andato a un rabbino un uomo bene dice rabbino non so che fare c'è qual è il tuo problema dice io sono zicofreno zicofreno sì zicofenia sì alla mattina voglio così alla sera voglio così e un giorno vado così e uno giorno voglio così e non lo so che fare inizio un negozio dopo due settimane cambio negozio dopo tre settimane cambio non posso non riesco a fare niente nella mia vita le stesse cose che faccio subito mi vengono le dubbi mi vengono le pensieri non so che fare il rabbino aiutami il rabbino dice anch'io io ti mando c'è una città là là c'è il mio allunno vai a mio allunno lui ti aiuterà con questo problema l'allunno così felice dice oh il rabbino mi ha aiutato devo andare là c'è un rabbino là si chiama Ravolf vai a lui lui ti aiuterà Ravolf lui va cammina era Polonia non lo so adesso dicembre enero venti gradi sotto il zero freddo ghiaccio arriva una casa che so dove è la casa di questa rabbina sapete si arriva questa casa inizia a bussare la porta bussa la porta e lui freddo mi sono aperto bussa due minuti nessuno apre e lui sente che dentro ci sono gente sente il rabbino parlare con la moglie con i bambini sente che ci sta rumore un'altra volta lui bussa la porta e nessuno apre e dopo dieci minuti lui inizia a urlare dice per favore aprite la porta e nessuno apre e dopo venti lui dice per favore io sono ebreo io sto per morire fa freddo venti gradi sotto sotto il zero si rimango qui ancora e questo rabbino che non era il rabbino lui pensava che il rabbino dice a casa mia io decido a chi apre la porta tu non dire a me a chi aprire la porta e io è io che decido a chi aprire la porta questo ha capito che qui strano è tornato a casa e è andato al suo antirrabbino non ho capito come questo scusa per la parola questo matto che mi ha lasciato fuori casa a suo casi per morire mi può salvare che versetto lui ti ha detto lui mi ha detto che lui decida a chi aprire la porta dice questa la risposta di tutti i tuoi problemi il cuore ti manda sempre ospite un giorno e l'ospite si chiama il desiderio per fare questo e l'altro volto e l'ospite che il cuore ti manda e una paura di questo e dopo ti manda un altro ospite ospite che il dubbio è quello e così il cuore ti manda ospite dopo ospite dove lo manda il cervello però sai tu che decide a che aprire la porta sai tu che decide prendere questo pensiero far entrare la testa iniziare pensare su o subiti toglierlo e cambiarla con un altro pensiero e questo e questo dicono le maestri il segreto del tefinino e questo dicono le maestri il segreto del cuore e questo è collegato con lo che abbiamo detto all'inizio con la fretta uno deve essere veloce anche nel pensiero non essere pesante ti viene un dubbio in la testa non pesante fretta cambiala pensa su una cosa positiva pensa su un altro pensiero pensa su una cosa felice che ti è successa ti entra un pensiero di paura subito non inizi a analizzare perché ho paura perché mi viene le paure che ho fatto da dove viene già hai perso la battaglia se fai questo subito appena ti entra questo pensiero manda la via e questo dicono le maestri in un senso essere ebreo e voglio dire se è psicofreno non immaginate quanto Hashem ci vuole bene quando lui vede che tu hai questa battaglia Hashem questa cosa lo fa godere proprio quando lui vede ti viene un pensiero adesso devi fare un peccato il cuore ti manda un pensiero un altro e un altro e un altro il cuore ti sta attaccando e tu subito le togli le togli le togli le togli e a volte tu dici però sono ragazzi su chi sta giocando bugiardi io ho pensieri cattivi e su chi sta non è una bugia questa è la vita questa è psicofenia questo vuol dire ebreo questa battaglia è come il calcio questo è l'altro fare un gol quando non c'è un altro gruppo che è contro di te tutti possono fare la forza è fare un gol quando c'è un gruppo che ti voglio frenare a fare la cosa giusto e questo c'è di chi dovete sempre sapere a ognuno di noi non siamo angeli camminiamo nella strada e ci vengono pensieri pensieri forse di una donna o un pensiero di un cibo bene o un pensiero di scommesse o un pensiero di sigaretti o di giocare ognuno con le sue cose ho paure quanto volte un uomo ha dubbio di se stesso mille dubbi e le tre forse anche quando fai una cosa buona forse non l'hai fatto bene forse non era giusto forse aveva bisogno di comportare diverso forse non l'hai detto perché hai detto così è forza è forza maestri questo ti attacca uno due uno due uno due e poi questo noi diciamo anche in il ci sono due cuore due cuore c'è il primo cuore il primo pensiero il primo ospite e c'è il secondo il secondo voglio dire tu decide dopo il primo chi sarà il secondo e questo mai dimenticare il primo ospite il primo pensiero non possiamo controllare però il secondo non dare a tutti questi pensieri entrare nella testa tu sai tu sai quello che governa dice il maestri esu ha gibor dice il maestri chi è considerato forte chi è considerato forte esu ha gibor ha covese tizzo quella chi riesce governare e controllare esso stesso non voler essere come david non voler essere come izra non voler essere come non lo so essere tu stesso lavorare con tu stesso e questo è voglio dire essere ebreo e che mesrata Hashem ci aiuta ognuno di noi avvicinarci e così possiamo avere il merito di vedere il Mashiach pronto Shabbat Shalom